Proseguono il lavoro di manutenzione ai giunti alla pavimentazione del ponte Europa Pistoia. Terminata la parte degli interventi sul cavalcavia sopra via Leadua, da domani giovedì 16 aprile a partire dalle ore 8 prenderà il via la seconda fase con interventi al tratto del cavalcavia sulla linea ferroviaria. Viene fatta per la prima volta questo ponte che è un ponte abbastanza giovane ma che ha bisogno delle prime manutenzioni. Abbiamo approfittato di questo momento in cui il traffico è ancora abbastanza limitato. Lo abbiamo fatto appena stato possibile perché c'è stata una fase in cui anche i cantieri edili erano fermi e adesso si può ripartire con i lavori e abbiamo deciso di partire subito con il ponte Europa. Sono sostituzione di 5 giunti, sostanzialmente il costo è intorno ai 19 mila Euro, i lavori si svolgeranno sostanzialmente da oggi fino a venerdì prossimo, quindi ci sarà circa una decina di giorni in cui il ponte non sarà utilizzabile. Chiedo scusa ai cittadini per le difficoltà che dovranno sostenere per chi gira in questa zona, però credo che non ci sia opportunità migliore di questa. Nel frattempo il cantiere approfitterà anche della situazione per fare un po' di pulizia delle fossette qui intorno, per pulire gli scoli, per tagliare l'erba e per rifare anche le spallette del ponte che sono state nel tempo danneggiate da alcune auto, da alcuni camion che ci hanno urtato. Noi pensiamo quindi che il tutto si possa concludere entro il 25 di questo mese. Abbiamo fatto naturalmente una piccola gara e abbiamo selezionato un'azienda pistoiese, è la L Edilizia e è risultata quella con il preventivo migliore. Rassicuriamo un po' alla gente di Pistoia che non è che il ponte avesse cedimenti strutturali. No, no, assolutamente, ci hanno inviato tante mail, il ponte è assolutamente un ponte abbastanza nuovo, è solidissimo, tra l'altro ha una campata anche abbastanza limitata, non è un ponte lunghissimo, non esiste nessun tipo di problema strutturale, è soltanto la normale manutenzione con la sostituzione dei giunti che ogni almeno 10-15 anni andrebbe regolarmente eseguita su qualunque ponte.